Oggi però presenterò un progetto del gruppo del professor Molinari che riguarda lo psicologo in farmacia e del progetto che si è svolto tra il 2009 e il 2011 a Milano grazie anche alla collaborazione, grazie al supporto dell'istituto istituzionale del Comune di Milano che ha permesso di offrire un servizio gratuito alle persone portando gli psicologi nelle farmacie, un progetto che ha coinvolto 28 farmacie, circa 1700 persone che avevano la possibilità di accedere ad un ciclo di 4 colloqui gratuiti, la sostenibilità del progetto è stata assicurata sia dal fatto che c'è un supporto da parte dell'istituzione comunale sia da parte delle farmacie che contribuivano in parte. Si è trattato di un intervento secondo me molto interessante perché ha permesso di andare incontro al bisogno inespresso di psicologia che è presente nella popolazione. Circa il 10% della popolazione ogni anno rientra nei criteri per un certo disturbo psicologico ma solamente due persone su cento poi chiedono effettivamente aiuto allo psicologo. Le ragioni sono spesso dovute agli ostacoli di natura economica, di natura pratica o di natura culturale. La possibilità di avere a disposizione un professionista nel territorio, quindi in modo che sia accessibile per la persona consente di soddisfare questo bisogno inespresso. E' un po' quello che è venuto fuori dalla valutazione, un po' quello che i risultati della valutazione dell'intervento hanno fatto vedere che le persone quando sono entrate nello studio dello psicologo in farmacia avevano un livello di benessere basso, nel momento in cui sono uscite avevano un livello di benessere uguale a quello della popolazione italiana. Questo ci ha permesso di dire che si tratta di persone che sono in un momento di crisi, probabilmente della loro vita, sono in un momento di bisogno, un bisogno che farebbe fatica ad essere intercettato dai servizi territoriali e grazie a questo progetto sono riusciti a trovare uno spazio per poter risolvere il loro problema o per essere invece indirizzati verso dei servizi più specifici.